Abbiamo perso il primo tempo, abbiamo vinto il secondo e siamo arrivati nei cut-out, dove abbiamo vinto, fortunatamente, perché siamo state brave. Sì, veniamo da una settimana impegnativa, dove abbiamo giocato sempre molte partite ogni giorno e sicuramente la stanchezza si è fatta sentire, però siamo riuscite comunque con la grinta e con il cuore a sopperire a questa stanchezza. Diciamo che è un onore per me giocare insieme a Sabrina in porta, avere come collega Sabrina e devo dire che lei mi ha aiutato tantissimo, mi ha sostenuto da fuori il campo e da dentro il campo, quindi solo un onore. Complimenti a lei che secondo me è uno dei portieri più forti in Italia. Esatto, quindi vinceremo, speriamo di vincere e ce la metteremo tutta.